Buonasera a tutti ragazzi Buonasera a tutti Questo è quello che è epico Questo è Christian Allora, questo è Christian Che ha chiamato Ah, ma è già partito Oh mio Dio No, ma tutte le robe epiche Che ci erano capitate Potevo tenerlo quel video, cavolo No, ce l'ha capitato un tipo grasso Come dire? No, Joker 3.0 Chi vuole mi vado a seguire Sì, non seguitelo Ma sono uno scherzo, non mi si iscritti Poi ho fatto il video Vabbè, comunque questo è Christian Quello che vi parlavo Ma la maglia della Svezia Che maglia hai? La maglia della Svezia Vabbè, allora La sciampata della Svezia Guardate la mia, Mago Oggi siamo qui a fare un vlog Un vlog, edito Famile A Ferrara No, non dire la città, cavolo Ma l'altra volta ho detto Parco Masari Vabbè A Ferrara No, a Roma Siamo a Roma Poi? Sì, siamo a Roma Infatti, vedete, questo è Roma Questo è il campanile di Roma Non so se Sergio è arrivato a 150 iscritti Ma ci arriverà prestissimo Mi conosco colorato Anch'io lo conosco È di Sambe Sì Sarà lo speciale 150 Sì, anche se sarà 148 Però Facciamo 150 iscritti Allora Anche a te Anche a te Buone vacanze Buone vacanze Se riesco a farli Non so se riesco a farli No, beh, non riesco a farli Così Ti pare Però è uguale Mi scusi Ho subito la mia informazione Via palestra Perché stavamo cercando che c'era un nostro amico Sì, giù di te Ok Sono il tempo al primo semacoro Sì La signora ministra è via palestra Ah, grazie mille Grazie Arrivederci Buona buona stanza Ciao Sì, c'è una mostra Sì Ah, sì, va bene Ah, grazie mille